Io penso che la squadra sia andata in difficoltà su alcuni calci d'angolo da parte del Vicenza, poi ha avuto anche lei le buone occasioni per passare in vantaggio, perché quando siamo riusciti ad aprirli in ampiezza e siamo andati al cross abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Sostanzialmente era una partita molto equilibrata e l'hanno sbloccata loro su un episodio del calcio d'angolo dove sicuramente siamo usciti in ritardo su quella palla, ma sostanzialmente era una partita equilibrata che poteva essere decisa da un episodio. Purtroppo è stato in loro. Buonasera Luigi Di Marzio Centro, io non sono d'accordo con lei, sostanzialmente non è stata una partita equilibrata, mi perdono, perché vedere una squadra che deve salvarsi, fare l'unico tiro in porta nel 92esimo minuto, io credo che ci sia più di un problema. Quindi credo che stasera, questo pomeriggio, credo che il Pescara abbia messo la firma in calcio sulla retrocessione in Serie C, perché vedere una squadra senza coraggio, io la capisco. So che allenare comunque in questo periodo è molto difficile per lei, però credo che lì non puoi arrivare, sulla carica agonistica, sulla verba, sull'intensità, sulla cattiveria. Questa cosa purtroppo oggi non si è vista, quindi io non sono d'accordo purtroppo sulla partita equilibrata. Ripeto, il mio dovere è quello di continuare a crederci fino alla fine, cercare di metterci tutto quello che ho dentro io, che hanno i ragazzi dentro. La situazione sicuramente non è facile, oggi si è complicata ancora di più, però dobbiamo reagire, dobbiamo reagire, siamo a sei punti. È chiaro che poi ogni partita che passa, passano i punti, perdi convinzione, però noi dobbiamo continuare a crederci e continuare a rimanere aggrappati. Non possiamo assolutamente mollare, otto partite sono tantissime, la matematica non ci condanna ancora, quindi dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo e buttarlo in campo, andare oltre, come ho detto sempre. Non dobbiamo farci abbattere da niente e da nessuno. Sicuramente l'approccio non è stato positivo e sicuramente avrà influito la sconfitta di martedì, però poi la squadra, ripeto, ha trovato delle soluzioni, siamo arrivati al cross e poi sostanzialmente, secondo te, un po' l'episodio ha girato a loro favore. Mister, mi perdoni, ieri parlava di due infortunati all'ultima ora, uno è Odgaard, va bene, l'altro chi era? Era Macino? L'altro era Balzano, che è venuto con noi e poi avevamo Maestro che si era fermato giovedì per una piccola contrattura. No, no, io gli ho chiesto questo perché la mia domanda è la seguente, perché non puntare su Macino per 90 minuti interi? Cioè è successo qualcosa? No, mi scusi perché questo diventa anche un caso, forse per lei è anche un po' diplomatico, però è un caso, comunque è una domanda, è successo qualcosa? No, non è successo niente, assolutamente niente, altrimenti il ragazzo non sarebbe stato con noi, non sarebbe partito con noi. Gli preferisco altri calciatori, il secondo tempo parlo di Maestro, il secondo tempo abbiamo cercato di allargarli, quindi abbiamo preferito mettere giocatori che ci dessero un po' più di ampiezza, però ripeto, penso che un giocatore da solo non determini, ce n'era uno, purtroppo non c'è più che Maradona, poi per il resto insomma bisogna avere grande equilibrio, soprattutto all'interno dello spogliatoio e soprattutto avere una meritocrazia. Senta mister, vabbè, non per ripetere quello che hanno detto i colleghi, noi l'abbiamo vista così, insomma oggi il Pescara per me è stato inguardabile, però è solo un mio sommesso punto di vista, per carità, però insomma è chiaro che era fondamentale questa gara, come le ho detto ieri, le ho fatto proprio questa domanda, dopo la botta tremenda con l'Ascoli per verificare la tenuta mentale e la capacità di reazione, le risposte sono state pessime sotto questo profilo? Sono state pessime, ripeto, abbiamo avuto un approccio sicuramente non positivo, gli abbiamo concesso fiducia e sicuramente dovevamo essere più reattivi, poi la squadra per una buona parte del primo tempo ha reagito, ha reagito bene, ripeto, siamo arrivati soprattutto a sinistra e a volte a destra con Bellanova, non siamo riusciti a metterla dentro, però è normale che al primo tempo dovevamo avere un approccio completamente diverso alla partita, soprattutto da un punto di vista nervoso, però detto questo, dobbiamo continuare a lavorare, dal lunedì riprenderemo, siamo a sei punti, ma con otto partite non possiamo e non dobbiamo assolutamente regalare niente a nessuno e continuare a crederci finché non suonire la campana. Ecco mister, buon pomeriggio, il problema è che però queste otto partite le giocano i calciatori che oggi sono andati in campo, cioè gente inguardabile, come Memushai, come Galano, Scognamiglio, gente retrocessa dall'anno scorso che sono veramente imbarazzanti, lei ovviamente ha meno colpe di tutti, la colpe di tutti è di tutto, e di Daniele Sebastiani, di Antonio Bocchetti che non hanno fatto nulla per cambiare quanti retrocessi l'anno scorso, però lei continua giustamente a dover contare su questi calciatori che sono, ripeto, imbarazzanti e che speriamo l'anno prossimo di non vederli più con la maglia del Pescara. Ci sono soluzioni migliori rispetto a questi? Perché oramai mister, penso che sia palese, non bisogna nascondersi. Cioè è l'unico di qualità e de Sena che è arrivato qualche giorno fa e sembra volersi salvare come l'unico rispetto ai suoi compagni di squadra. Ma ripeto quanto ho detto prima, ragazzi, io assolutamente non mollerò niente, la squadra assolutamente non dovrà mollare niente, non dobbiamo assolutamente buttare giù la testa, battersi, ripeto, è chiaro che mi rendo conto, non sono stupido che le giornate passano, i punti passano, però dobbiamo assolutamente rialzare la testa. Noi da lunedì riprenderemo a lavorare e come faccio sempre cercherò di mettere in campo durante le partite quello che vedo durante la settimana. Poi dobbiamo sbloccarci da un punto di vista mentale, liberarci dalle paure e crederci, ma assolutamente non dobbiamo mollare di un centimetro. Buonasera, una considerazione, domanda motivazionale e un altro carattere tattico. Lei ha giocato tantissime partite da giocatore, ne ha fatte veramente tante, tra l'altro anche in campi infocati. Lei sa benissimo che con questo atteggiamento non si può salvare il Pescara. Il primo lavoro che c'è da fare se uno vuole diventare il miracolo è quello della determinazione che non c'è in questa squadra. purtroppo questo è il grande male di una squadra che si deve salvare e quando va in campo sembra quella che invece sta a metà della fisica. Chiedo scusa, non è che non c'è, magari non riusciamo a tirarla fuori, magari siamo psicologicamente. Voglio dire, oggi, soprattutto i primi dieci minuti, abbiamo subito e abbiamo subito troppi calci d'angolo, ci siamo fatti impaurire, non avevamo la serenità giusta per giocare, però dobbiamo assolutamente ribaltare la situazione. Non possiamo e non dobbiamo assolutamente essere vittime di nessuno, dobbiamo assolutamente reagire e dobbiamo rimetterci in carreggiata quanto più velocemente possibile. Mi collego invece alla domanda tattica, quindi ripeto, secondo me con questo atteggiamento non si fa nemmeno più un punto a cui la prima, questa è la mia considerazione. L'aspetto tattico collegato è questo, questa paura che si ha, questo attaccamento passivo, ci porta a difendere sempre vicino la porta, cioè a difendere la porta negli ultimi venti metri. È una cosa che è successa con l'Asto e è successa anche oggi. La squadra avversaria negli ultimi venti metri ha un Pescara che si attacca a Fiorillo, che si sbarra la porta davanti a Fiorillo e non aggredisce più e non vai in avanti. Com'è questo difetto che non si riesce a colmare? Tra l'altro, e concludo, due situazioni uguali, Craig con Lascoli ha salvato sulla linea Bellanova, oggi ci hanno preso gol, cioè sul corner corto che nessuno esce sulla palla. Questo fa parte di tutta questa dimensione che noi stiamo attaccati alla porta e abbiamo paure di correre in avanti quando l'avversario è sui venti metri. Grazie. Sì, sul calcio d'angolo sono d'accordo, insomma, abbiamo letto sicuramente in ritardo la situazione, non siamo stati attenti, dovevamo uscire molto prima. Per quanto riguarda la prima domanda, dobbiamo lavorare. Sapevamo che oggi avevamo in campo Setterra e Giannetti che sicuramente hanno bisogno di giocare, di minutaggio e abbiamo cercato di essere un po' più bassi per cercare di essere un attimino più compatti ma dovevamo assolutamente essere più corti e cercare di aggredirli maggiormente e invece a volte ci staccavamo però ripeto purtroppo di tempo come dico sempre per lavorare ce n'è sempre di meno e le partite sono una dietro l'altra ma questo non giustifica soprattutto l'atteggiamento che abbiamo avuto all'inizio della partita. Senta, mister, posso fare una domanda perché la cosa preoccupante lo sai qual è? Non si vince un contrasto non si marca in area perché secondo lei? Cioè si continua in area noi se si riferisce alle parenative marchiamo a zona ma questo non vuol dire che non si marca anzi si marca si marca la palla si marca in avanti con la grande aggressività e poi per il resto è chiaro che dobbiamo alzare il baricentro e dobbiamo essere più aggressivi soprattutto contro gli attaccanti avversari andarci a giocare più a duello e da lunedì ricominceremo a lavorare e a crederci. Le mie non sono parole di circostanza io ci credo davvero e quindi assolutamente il messaggio deve essere questo chiaro e diritto fino in fondo. grazie. 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 Forse soffrono soffrono troppo l'impatto emotivo e mi posso assicurare che durante gli allenamenti questi ragazzi lavorano mi seguono e si applicano ed essendo libero di mente è un giocatore che essendo libero di mente ci crede più degli altri ci mette assolutamente grande attenzione in quello che fa gli altri fanno lo stesso ma forse subiscono da un punto di vista mentale la situazione però ripeto abbiamo fortunatamente adesso dieci giorni per lavorare da lunedì si ricomincerà a farlo e assolutamente dobbiamo senza se e senza ma battere il Pisa alla prossima maggiornata di campionato. grazie a tutti